Il tema sulle spese da fare, in realtà noi siamo bloccati dall'Unione Europea, i governi che siano di destra o di sinistra hanno un limite margine molto ristretto, c'è il patto di stabilità, cioè quando le cose vengono fatte, ricorderete quelli che ci ascoltano adesso in televisione, quante volte avete sentito dire sulle questioni importanti economiche e sociali e poi vedremo cosa dirà Bruxelles e poi vedremo cosa dirà Strasburgo, Francoforte, Washington, perché il nostro paese è privo di sovranità, a Francoforte c'è il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la Nato a Bruxelles e Washington, c'è la Banca, c'è l'Unione Europea, sono loro che decidono per noi e quindi come dire che ci sia la destra, che ci sia la sinistra, in realtà si litiga molto perché in realtà si litiga per le poltrone ma non per la gestione del paese, non c'è una prospettiva possibile. Il canto del Grillo non l'ha appassionata, Rizzo. Ma no, Grillo, dico solo una cosa, il 5 Stelle nasce su questioni giuste, ci sono delle cose giuste, però poi muore in una eterogenesi dei fini. Pensate che questo litigio avviene, i 5 Stelle si erano battuti contro i privilegi della politica, contro certe cose che erano davvero anche storture, ma alla fine finisce con Grillo che prende 300 mila euro, perché prende un vitalizio di 300 mila euro l'anno Grillo? Finisce con una situazione folle, dove il partito di Conte diventa una cosa come tutti gli altri, quelle idee iniziali sono totalmente scomparse, quando hanno governato hanno fatto quasi peggio degli altri e litigano con uno che era il fondatore del partito, ma guarda caso era da due anni che prendeva un vitalizio non da 5 mila euro, da 4 mila euro, da 3 mila euro al mese, da 300 mila euro l'anno, sapete quanto fa al mese? Fa 25 mila euro al mese. Qui abbiamo già Luigi Paragone che forse è più deputato a commentare anche, volevo chiederti ma che cosa significa progressisti indipendenti? Vale tutto, ormai è la produzione di bolle di sapone che prendono forma delle parole, effettivamente 300 mila euro è un contratto poco francescano, un pochino più gesuita è molto paraculo, però questo mi dispiace usare questa espressione colorita però tant'è, ma sai qui allora l'operazione da laboratorio politico è riuscita, Conte si è fatto la sua creatura, Grillo si farà la sua lista, io ho parlato con diverse persone Ha preciso che il contratto è stato cancellato? No non è stato cancellato, va a scadenza, la scadenza naturale non viene rinnovato. Grillo si farà la sua lista, io ho parlato con diverse persone della sua stretta cerchia, è ormai una questione molto personale tra lui e Conte e quindi lui farà una lista Grillo, molto probabilmente convergerà Virginia Raggi, difficile che possa farlo l'appendino, poi si scanneranno e dalle cenere di questa, di questo wrestling, di questa Royal Rumble di tipo wrestling, alla fine potrebbe essere che Di Battista rinasce, riporta, perché è fuori dal giro da un po' ma sente il richiamo della foresta, può essere che ritorni e faccia quello che riannoda i fili del vecchio Movimento 5 Stelle, che non è di destra e non è di sinistra e tenterà. Questo secondo me può essere un pezzo della storia. E a quel punto Nardella che succede, né di destra né di sinistra non ve li pigliate più. Io non so quanto tutti questi partiti nuovi, liste nuove possano portare un vantaggio, qualcosa di positivo, peraltro mi preoccupa molto questa astensione così alta che abbiamo visto in tutte le ultime elezioni regionali ma anche alle europee e non credo che la proliferazione di movimenti, liste, partiti possa portare una soluzione. Gianluigi Paragone che conosce molto bene il movimento, ha ricordato anche Alessandro Di Battista che peraltro ha costituito un'associazione, sta girando il paese e quindi se dal vecchio Movimento 5 Stelle addirittura nascono tre partiti, uno di Conte, uno di Grillo e uno di Di Battista può anche succedere ma non credo che aumenterà l'affluenza dei cittadini al voto perché l'impressione... Ho detto una cosa diversa, cioè secondo me, dalle informazioni che ho io, un po' di elementi che un po' penso di conoscere, la prima sfida è tra Conte e Grillo, poi successivamente secondo me Di Battista potrebbe arrivare una volta che si è consumata, però potrebbe anche rimanere fuori, perché non so quanto quanto gli convenga, sentire il centrosinistra criticare le scissioni degli altri mi fa un po' ridere perché a sinistra sono specialisti nelle scissioni. Figurati, hai ragione, i più gravi sono quelli a destra, litigano sempre ma poi si ritrovano sono d'accordo sono d'accordo Grazie